Lo Stato dovrebbe far partire il ricorso oggi pomeriggio? Insomma è chiaro che aumenta l'amarezza perché l'abbiamo sempre sostenuto, avevamo il dossier migliore, avevamo tutte le condizioni, avevamo il Pirellone che era il luogo in cui in pochissime settimane si poteva dire spostare tutto il centro di Ema senza alcun problema e ci ritroviamo oggi con una scelta, con un atteggiamento dell'Italia al momento della decisione non così efficace e determinante, è stato mandato un sottosegretario a penorale alla nostra causa invece che andare il primo ministro, il ministro degli esteri e oggi siamo qua a rimpiangere, a ricarci le ferite, a sperare che quello che noi avevamo sempre detto, cioè che Amsterdam era una scelta inadeguata, possa portare ad un cambio di rotta. Mi sembra più un tentativo politico che non reale perché la scelta non è appellabile a nessun organo di giudizio, è evidente che qualora l'operatività di un ente così importante dovesse essere pregiudicata da Amsterdam forse ci ripenserebbero, noi lo faremo però ancora una volta l'inadeguatezza del governo di centro-sinistra emerge in tutta la sua forza e nell'evidenza dei danni che ha creato la nostra città, la nostra regione. Senta, qui nei stati giornali si fa un po' il punto di quello che è stato fatto ma anche di quello che si farà in futuro, si punta molto sulle tecnologie lei però ritiene che sia necessario spendere di più naturalmente bene per quanto riguarda la sanità in che modo? Sì, la sfida del futuro è quella della sostenibilità del sistema, della gestione della cronicità e in questo l'innovazione tecnologica ha un compito è una strada importantissima e fortissima perché consente a costi molto più ridotti di poter garantire una qualità di presa in carico efficace. Oggi parliamo di questo, oggi parliamo del futuro, Regione Lombardia ha costruito un modello di presa in carico che consentirà di attuare, adottare e innescare tutti gli strumenti innovativi che escono dalla mente fertile dei giovani di non solo le app e tutto ciò che si sta oggi mettendo in campo e che sicuramente nei prossimi anni consentirà speriamo di continuare a garantire la sostenibilità di un sistema che oggi ha dei costi tali che sta creando con i cittadini di serie A e cittadini di serie B. Si riuscirà effettivamente a ridurre i tempi di attesa entro un mese? Noi abbiamo messo in campo molte misure e abbiamo anche chiesto alle nostre aziende attraverso la canalizzazione di risorse specifiche sulle prestazioni più importanti di garantire i 30 minuti. È chiaro che il problema è quello del reclutamento del personale. Il sistema sanitario italiano è sottofinanziato. Oggi 114 miliardi di euro corrispondono al 6,3% del PIL. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che i paesi che investono meno del 6,5% del PIL sono dei paesi a rischio morto, cioè che non garantiscono un sistema sanitario di qualità. Oggi ci saranno anche dei parlamentari nazionali, dei candidati nazionali. chiederemo a loro un impegno preciso perché noi abbiamo soldi per assumere il personale, per finanziare le strutture e quindi che erogano prestazioni ambulatoriali oppure il tema delle liste d'attese, il tema della presa in carico dei bisogni più evidenti dei cittadini non si rirealizzeranno. Alla luce della chiusura delle liste ieri, soprattutto nei collegi uninominali, si vede che la Lega e Lombardia hanno molti più collegi. Forse Italia ha fatto in un certo senso un posto indietro? Ma no, non mi risulta, mi sembra che siamo al 50%. No, sono di più i collegi della Lega. Forse nel senso che il 50% è una valutazione nazionale, quindi evidentemente nella valutazione della nazionale la Lega qui ha una presenza un pochino più ampia perché a livello, in altre regioni invece c'è un equilibrio diverso. La coalizione è una coalizione forte, una coalizione che sta marciando in maniera molto compatta sui temi, sui programmi e anche sulla scelta dei candidati. Molti candidati della società civile, per Forse Italia, per la Lega, molti anche per Fratelli d'Italia, dirigenti di qualità che rispondono al territorio. Mi sembra che è una compagine di primo livello che ci consentirà di rafforzare ancora di più il vantaggio che abbiamo e di finalmente raggiungere quel traguardo dell'autosufficienza al governo del Paese, proprio perché abbiamo bisogno di un governo forte che prende scelte importanti, anche un po' drastiche, parlavo della sanità, ma c'è il tema della sicurezza, dobbiamo dare priorità alla destinazione delle poche risorse nazionali che ci sono e secondo me ci sono tutte le condizioni per farlo.